La S Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione. Ringraziamo José a nome di tutti noi alla S Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso, hanno dichiarato Dan e Ryan Fridkin. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione. Ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della prima squadra saranno comunicati a breve.